Mr, un'altra finale in questo torneo, stavolta è andata diversamente, ma è comunque un altro grande torneo fatto dalla sua Roma, 2005-2004 che sia, insomma, un'altra bella avventura. Sì, sì, di là del risultato sono contento del percorso che hanno fatto durante tutto il torneo. Ora, la partita di oggi non cancella quello che è stato fatto di un po', anche se secondo me la partita l'hanno fatta. Purtroppo era un po' più difficile rispettare altre, perché per fattori fisici, per il modo di giocare della Lazio, e quindi ci ha messo un po' più in difficoltà. Però la partita l'abbiamo fatta e loro hanno avuto la capacità, la bravura di capitalizzare le uniche due palle e golle. Noi, purtroppo, no. Abbiamo costruito non tantissimo, però siamo andati a tirare tre o quattro volte dentro l'ata di core e l'abbiamo sempre appoggiata tra le mani del portiere. Si è vista anche tanta stanchezza, soprattutto nel corso del secondo tempo, no? Purtroppo siamo partiti con parecchi giocatori acciaccati e quindi l'hanno un po' pagata, anche se l'hanno tenuta la partita, però non erano brillanti, perché noi avevamo Marazzotti infortunato. Marazzotti è uno dei tre centrocampisti e ci ha dato tante soddisfazioni in questo torneo. Avevamo Tuadì infortunato, Bolzan, insomma, sono tutti mezzi mezzi. Il prestito De Angelis febbricitante, quindi ci sono venute a mancare le forze anche in virtù di queste situazioni fisiche non al massimo.